Ok, ciao a tutti, sono sempre io il vostro Diabotex, Brado, Cristian, chiamatemi un po' come meglio credete sono qui per una piccola comunicazione di servizio, non diciamola così, no? non è ne un unboxing e nient'altro allora, magari alcuni di voi si ricordano, alcuni no, però io ve lo dico insomma perché è una cosa che ci tengo particolarmente allora, siccome, dai, diciamo, si dà il caso che il 19 aprile sarà il mio compleanno, no? come ho fatto anche già l'anno scorso, è la cosa che mi è piaciuta, no? anche perché mi piace condividere questi miei momenti con voi sono veramente molto contento di condividerlo allora, essendo che il 19 aprile sarà il mio compleanno e purtroppo arriverò a 38 anni, anche se in molti di voi alcuni anche non ci credono che ho 38 anni però ragazzi, tra 18 giorni saranno 38 anni, Maremma Cinghiara comunque, detto questo, vi faccio questa piccola comunicazione di servizio, ok? se vi farà piacere, se volete farmi un video messaggio di auguri e me lo inviate sulla mia email io poi farò il montaggio del video che verrà pubblicato sul mio canale di tutti i vostri messaggi di auguri, per me insomma a me farebbe piacere, l'anno scorso l'ho fatto anche sul mio canale il video dell'anno scorso c'è è un modo, diciamo, per... mi piace condividere questa cosa con voi del mio compleanno così ragazzi, qui perché nel mio canale siamo come una famiglia non è che io non vi reputo iscritti oppure così, io ci tengo a voi perché comunque vedo siete molto educati si ride, si scherza siamo ben in sintonia e quindi è giusto che io condivido questa cosa con voi quindi, se vi farà piacere inviatemi un video messaggio di auguri entro il 15 aprile, non oltre infatti ho fatto questo video oggi che primo aprile lo pubblico oggi in modo che avete queste due settimane di tempo per organizzarvi e così via io sotto in descrizione metterò la mia email dove voi mi potrete mandare questi video messaggi che vorrete inviarmi se volete inviarmelo allora, io sono molto contento se volete inviarmi questi video messaggi di auguri vi ricordo che il mio compleanno è il 19 aprile però il video messaggio di auguri inviatemelo entro il 15 aprile in modo che io poi ho tempo di fare il montaggio perché comunque con tutti questi gameplay che faccio allora mi organizzo meglio così diciamo quindi, se vi fa piacere ragazzi a me fa molto piacere avere un vostro video messaggio di auguri anche perché poi non è che lo pubblico solo sul canale ma una cosa io me la conservo anche per me perché mi piace, puoi rivederlo perché mi mette gioia questa cosa e mi mette molta allegria sempre insieme a voi quindi, aspetto il vostro video messaggio di auguri entro il 15 aprile e poi magari alcuni di voi non faranno i video messaggi di auguri mi faranno gli auguri iscritti qua sul canale va bene ugualmente quindi, un saluto a tutti al vostro Diablotex e io poi sotto in descrizione metterò la mia email e voi mi manderete i vostri video messaggi di auguri entro il 15 aprile non oltre il 15 aprile ragazzi quindi, vi ringrazio ci sentiremo con i gameplay e tutto il resto state sempre rock e sempre ancora vi dico grazie ancora a tutti per il vostro supporto ciao ragazzacci alla prossima